Se desideri laurearti, scegli l'Università Telematica. Se stai valutando di iscriverti a un corso di laurea, ti starai chiedendo quanto costa una laurea online. Da Pegas e Mercatorum il normale costo della retta annua è pari a 3.000 euro, ma in convenzione con noi varia da 800 a 2.000 euro a seconda delle tante agevolazioni economiche previste. Ad esempio, se hai tra 17 e 20 anni, la tua retta universitaria sarà di soli 1.600 euro per ogni anno accademico. Se invece hai più di 20 anni, puoi accedere con una retta pari a 1.600 euro per il primo anno e 2.000 euro per gli anni successivi. I dipendenti delle Camere di Commercio pagano una retta di soli 800 euro per ogni anno accademico. Gli appartenenti alle Forze Armate, Guardia di Finanza e Polizia di Stato possono iscriversi ai corsi di laurea con 1.500 euro per anno. Polizia Locale, Penitenziaria e Vigili del Fuoco, 1.600 euro il primo anno e 1.700 euro i successivi. Altre agevolazioni sono dedicate alle donne in gravidanza e ai diversamente abili. Se ti interessa approfondire e avere tutte le informazioni utili all'iscrizione, chiamaci al numero verde 800 27 00 23. Pegaso e Mercatorum, scegli l'Ateneo del Domani. Grazie a tutti! Grazie a tutti.